ciao allora in questo video vi faccio vedere lo swap che ho ricevuto l'altro giorno ho partecipato appunto allo swap organizzato da Annarella Gioielli e niente io creavo una creazione per una ragazza che poi all'ultimo abbiamo dovuto cambiare perché la persona che l'ha associata a me e che doveva spedire ad un'altra ragazza non ha mandato la foto della creazione da Annarella quindi appunto ha deciso di toglierla dallo swap e associare questa persona a me e niente quindi diciamo che avevo fatto tutta la mia creazione incentrata sui colori che piacevano a quest'altra persona adesso non voglio sbilanciarmi perché so che non ho ancora ricevuto il pacchetto per cui preferisco non dire nulla tanto dopo questo video ci sarà un video di creazioni mie dove comunque mostrerò il regalino il pensierino che ho mandato a quella ragazza e niente quindi torniamo a noi dopo questo piccolo diciamo inghippo abbiamo comunque concluso diciamo l'organizzazione dello swap quindi spedendo i nostri vari pacchetti e a me ieri è arrivato il pacchettino della mia swappina questo è il sacchettino allora la ragazza è Andrea e noi la conosciamo sicuramente come aspettate che se no non si vede una cippa ecco aspettate eh io ho sempre le luci che ok facciamo così facciamo prima come Dea Creation qua ci sono tutti i suoi recapiti sia su youtube a un canale che si chiama Dea2901 oppure c'è il contatto facebook come Dea Antescore Creation e niente mi ha regalato delle cose veramente veramente molto carine adesso ve le mostro riaccendo la luce perché se no non si vede una cippa allora intanto mi ha regalato dei pensierini troppo belli tipo questo porta tesserine porta beige magari per il lavoro non mi ha messo nessuna letterina ma mi ha messo soltanto questo post-it con due paroline per me e niente quindi mi ha regalato questo e mi ha regalato questo qui che è un libricino con dentro un sacco di post-it che Andrea non sa io adoro tutto ciò che è cancelleria cioè quando vado al supermercato mi fermo tipo tre ore al reparto cancelleria infatti mio marito mi deve sempre portare via dalla disperazione e quindi queste cose sono graditissime per me perché poi ci sono tutti post-it a parte il colore che è molto bello questo penso che è lo stesso con cui mi ha scritto appunto le due paroline vedete ci sono di varie misure di varie dimensioni veramente veramente molto molto carino quindi li userò un sacco poi passiamo aspettate che ho fatto prima rovesciare quello che a quello che mi ha messo nel pacchettolo innanzitutto mi ha messo dentro questi cipollotti adesso ve li apro tanto li apro perché poi metto via subito tutto ho spezzato da asserire perché ok questi cipollotti il colore devo spegnere forse lo vedete forse però non è detto no non si vede niente è un viola un viola ametista tanto per dire quindi questo bel ametista che vabbè ve lo vedete molto più scuro però vabbè sappiamo che il viola nelle telecamere che mi ha fatto molto piacere perché comunque io uso molto i cipollotti sono sempre alla ricerca infatti ogni tanto chiedo a qualcuno di voi se è la prima occasione che va me li compra poi gli mando i soldi perché purtroppo io qua non ne trovo molti e non ne trovo sicuramente di belli poi mi ha regalato tre camei fatti da lei ve li apro senza perché poi io comunque li metto via e sono questo con la dama questo sempre con una dama non si vede molto dalla telecamera perché comunque è solo in rilevo ma è dello stesso colore del capuchon e idem è una dama con un buco quindi questo qua potrei soltanto appenderlo ma un inizio oggi si vede proprio male cioè no oggi forse è così non si vogliono far vedere proviamo a lasciare spento poi poi mi ha regalato un phone strap carino al tema halloween perché quella notte appena trascorsa vedete poi mi ha regalato un altro phone strap ciao lo lascio dentro faccio prima tanto si vede bene è sempre del colore della dama con un cioccolatino mangiato mi ha regalato un ciondolino fatto se non sbaglio con la resina di questo mino tutto abbronciato con un teschio sul anche questo è lilla come le mie unghie però vengono sfasate il colore e poi mi ha regalato questi qui che sono sempre cose fatte da lei in pasta polimerica che sono veramente belle infatti non vedevo l'ora di farle di farveli vedere perché ho già in mente cosa fare allora intanto mi ha regalato due ah no si vedono malissimo si vedono due cornettini sul rosa molto molto carini vediamo se accenda o questo video lo ricorderete con accende la luce spegni la luce vabbè entrerà nella storia e poi questi due biscottini queste due faccette troppo belle a me non riescono così quindi sono ben accette molto carine con cui magari farò degli anellini comunque poi deciderò poi vabbè mi ha regalato una una cordina dorata poi passiamo alla creazione mi ha fatto un ciondolo e un paio di orecchini allora il ciondolo in questione è questo qua e questo qua con delle perle verdi del bianco con questa catena pallini davvero deliziosa e gli orecchini in abbinato che sono questi esattamente come il ciondolo quindi una parura mi ha fatto così uno quando li indossa può avere il completo diciamo che questo è tutto quello che ho ricevuto io ringrazio davvero Andrea è stata comunque molto gentile sia per il pensiero che ha avuto per me che per tutto ringrazio anche Rosaria per l'organizzazione e niente dai io comunque sto partecipando anche ad un altro swap quello fatto da Jessica è sempre all'arrivo del mio pacchetto pensiamo che io e la mia swapina abbiamo deciso di spedire domani quindi arriverà settimana prossima anche in quel caso lì vi mostrerò quello che mi è arrivato e con questa visualizzazione dei pensieri che mi ha mandato Andrea io vi mando un bacio alla prossima ciao ciao